Tra le 4.000 biblioteche pubbliche italiane e straniere aderenti a Media Library Online, prima rete in Italia dedicata al prestito digitale, da oggi c'è anche quella della Regione Piemonte. Attraverso il portale si possono consultare gratuitamente ebook, musica, film, giornali, banche dati. Gli iscritti alla Biblioteca della Regione potranno utilizzare il servizio inviando una mail a biblioteca.chiocciola.cr.piemonte.it